Tra le sfide future è quella delle Olimpiadi Invernali 2026, fra le ricadute economiche anche un incremento degli investimenti pubblicitari. Paolo Gila. Quest'anno il mercato pubblicitario in Italia crescerà dello 0,5%. La stima è stata presentata all'Assemblea dell'UPA, l'associazione che riunisce il mondo della comunicazione e degli utenti pubblicitari. Cresce naturalmente la quota digitale, la quota di internet che interessa non solamente gli operatori di internet ma anche l'editoria che si trasforma in digitale, la televisione che viaggia sul digitale. Quindi la quota del digitale cresce, la televisione più tradizionale è statica. Il settore più in contrazione è quello della carta stampata che dal 2008 ad oggi ha visto decrescere di due terzi il suo fatturato. Le prospettive per l'editoria cartacea è una traversata nel deserto, debbono trasformarsi, capire le potenzialità che nascono da internet. Per le Olimpiadi del 2026 le prospettive sono buone, porteranno un incremento degli investimenti. Parliamo di decine se non centinaia di milioni di risorse pubblicitarie che arriveranno aggiuntive, che arriveranno attorno alle Olimpiadi Invernali. Nel corso dei prossimi mesi le riflessioni degli operatori saranno concentrate sull'impatto delle nuove tecnologie come il 5G e sugli aspetti demografici, con una crescita della pubblicità dei servizi e dei prodotti per le persone anziane sempre più numerose nel nostro paese.